Sì, eccoci. Salve a tutti, il mio primo intervento qui in Aula Giulio Cesare, sono un po' emozionato. Saluto i colleghi, saluto i cittadini intervenuti. Grazie. Io intervengo, non sono abituato a quest'Aula, vengo da una realtà molto piccola, che è il Municipio XV, dove avvertiamo la necessità di una tutela, soprattutto in determinate zone della città storica, come ad esempio Ponte Milvio, facendo semplicemente un intervento esemplificativo. Io oggi ho qua, non so, effettivamente sono all'interno del Consiglio Capitolino da molto poco, non so qual è stato il dibattito all'interno delle commissioni su questo regolamento, però, scusate, io non vorrei essere sarcastico, dicendo, io ho sentito le stesse cose che sono state dette dall'opposizione in Municipio, dell'assurdità una dietro l'altra, scusate se mi permetto, addirittura si è parlato della Delibera 30, che la Delibera 30 permette, insomma, una situazione che esista da dieci anni, i souvenir, da quanto è da ieri che ci stanno i souvenir, a San Lorenzo le pizze al taglio, quelli che vendono i kebab, ormai ci stanno da vent'anni, anzi, a San Lorenzo ci stanno quelli migliori, se vogliamo veramente puntualizzare. In realtà di fatto, è per questo, questa realtà di fatto che esiste da dieci anni, da quindici anni, che ci ha portato ad adottare questo regolamento, un regolamento che, almeno per quanto mi riguarda, io, Presidente della Commissione Commercio nel quindicesimo municipio, è stato applaudito da tutti quanti, proprio perché si interveniva non solo, diciamo, nelle zone calde come Trastevere, San Lorenzo, ma su tutto il patrimonio UNESCO, su tutta la città storica. Oggi si parla di librerie che hanno le somministrazioni, gallerie d'arte camuffate, che sono esistenti, sono realtà, è vero, assolutamente, gallerie d'arte che basta che mettono due quadri e diventano praticamente il pretesto per fare somministrazioni, sono tutte realtà che è vero, che esistono. Ed è per questo che oggi in aula stiamo facendo questo, basato non sulle chiacchiere o sulle cose, ma su uno studio, uno studio fatto dal Dipartimento, sulla saturazione sia di Trastevere, di tutto il patrimonio UNESCO, su delle realtà che ci sono da anni, e lo dice uno di 31 anni, non lo dice uno di 50, uno che gira di sera, che vede la realtà e che non stigmatizza tutto quanto, sia ben chiaro. Certo, assolutamente, i souvenir, le cose, non è più assolutamente accettabile per il decoro di Roma, siamo assolutamente d'accordo ed è per questo che stiamo qui oggi a votare questo regolamento. Non è certo oggi o da due anni fa che succedono queste cose, per chi è storico del rione, di qualsiasi rione, non solo di Monti o Trastevere. Lo sa benissimo, i minimarket, che come hanno detto bene i cittadini intervenuti, assolutamente, vendono a qualsiasi ora, a qualsiasi cosa, a prezzi ribassati e non si capisce neanche come sia possibile questi prezzi concorrenziali. Sì, è tutto vero, è per questo che stiamo qui oggi in aula a votare questo regolamento. Come si fa a dire, ma proprio da un punto di vista logico, come si fa a dire che questo regolamento porterà a una realtà di fatto che già esiste. È un controsenso logico. A parte questo, e a parte sottolineare il lavoro che anche noi nel Municipio 15, unitamente col Presidente Goya, abbiamo portato avanti e che siamo d'accordissimo da portare avanti, perché questa è la tutela per tutto il centro storico e tutto il patrimonio UNESCO, non solo dei soliti Trastevere e via dicendo. Io non riesco a capire, ma non volevo neanche intervenire, perché giuro, sono un po' emozionato, sono un po' in soggezione qua in aula, ma ho sentito delle cose che mi lasciano senza parole. Io non capisco neanche le cose pretestose, si è messo in mezzo dentro la delibera 30. La delibera 30 ha permesso questo. Io non so neanche quale è l'attinenza, tant'è che la delibera 30 è la delibera 30 e questa è un'altra delibera. Sono due cose differenti, no? Ne convenite? Detto questo, mi taccio e lascio la prosecuzione agli altri consiglieri. Grazie. 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 Grazie.